Buongiorno, il narcisista tradito. Cosa succede quando un narcisista viene tradito? Dovete sapere che la sofferenza che una personalità narcisistica può provare per un tradimento oppure per un abbandono può essere devastante, perché va a minare la sua fragile autostima, va a minare il senso stesso della sua vita. E a questo punto cosa succede? Su un piano inconscio succede che il narcisista, per togliersi dai guai, per togliersi da questa spiacevole situazione, si comporta in maniera inspiegabile, proprio come farebbe per esempio un adolescente. Inspiegabile significa che il narcisista adotta dei comportamenti di disprezzo verso gli altri, quindi diventa meschino e tira fuori tutta la sua rabbia, senza una ragione apparente. La risposta del narcisista al coinvolgimento affettivo è quella di diventare crudele e così giorno dopo giorno accresce la sua indifferenza verso il partner. E allora una carezza non data, una domanda d'amore che cade nel nulla senza risposta, silenzi sempre più lunghi. Tutti questi diventano segni di una incolmabile distanza e sono le prime avvisaglie della vera agonia di un rapporto con il narcisista. A questo punto la vittima si trova di fronte ad un silenzio carico di rimproveri, che non sono mai troppo espliciti, c'è molta ambiguità, c'è molta indifferenza, c'è la noia, le straneità. Questa forma di silenzio è proprio lo strumento più crudele ed efficace per sancire la morte psichica della vittima, che viene confinata nel mondo dell'insignificanza. Cioè diventa prigioniera di un'atroce nullificazione, niente desideri, niente emozioni e non esiste via d'uscita. Non esiste via d'uscita in quanto ogni tentativo di chiarificazione, ogni tentativo di dialogo è destinato a fallire miseramente, perché viene accolto dal silenzio. L'ostinazione del narcisista nel far finta di niente o nel negare la validità delle proposte dell'altro non lascia nessuna possibilità di recupero. E così la vittima è costretta ad accettare passivamente il corso degli eventi, chiudendosi sempre di più alla vita è diventando rinunciataria. Bene, molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata oppure consulenze telefoniche. Per richiedere una consulenza dovete scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473, scrivendo come funziona la consulenza, specificando magari il nome e il cognome ai vostri orari preferiti. Inoltre vi suggerisco di leggere i miei libri dedicati anche al narcisismo che si trovano soltanto su Amazon. Buona giornata.